Le donne confezionavano e cedevano dosi di stupefacenti all'interno dell'abitazione. Gli uomini vigilavano l'esterno come vedette. Sgominate dalla squadra mobile di Teramo, un'organizzazione criminale che spacciava eroina e cocaina nella nota Casa Rosa di Alba Adriatica. Nelle prime ore di oggi, con l'ausilio di elicotteri e cani antidroga, sono stati rinvenuti e sequestrati 104 grammi di cocaina e arrestate 6 persone. Tutte componenti della stessa famiglia di etnia Rom e residenti ad Alba, in particolare quattro donne e due uomini. È stata inoltre messa misura cautelare del divieto di dimora in Teramo e provincia per altri tre uomini, componenti del medesimo nucleo familiare. L'attività di indagine era stata avviata dalla squadra mobile Teramana nel settembre 2021. Era un problema atavico, però diciamo che il lavoro certosino dei nostri investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica che ha fatto sì, siamo riusciti a eliminare, come ho detto prima, questa metastasi dal comune di Alba Adriatica. Metastasi che interessava anche, purtroppo, gente e ragazzi delle vicine marche. Sicuramente restituirà un po' di serenità alla collettività di Alba Adriatica e alla provincia di Teramo e in parte anche delle marche. L'edificio denominato Casa Rosa ad Alba Adriatica rappresenta da anni il simbolo di un continuativo spaccio di droga stabilmente incardinato nella realtà costiera abruzzese. Tante le segnalazioni da parte della popolazione residente con l'operazione di oggi è stato eliminato un pericoloso gruppo criminale, una metastasi, come l'ha definita il questore Pennella. È chiaro che le nostre indagini vanno sempre avanti su tutte le altre direttrici, però allo Stato mi sento di dire, come ho detto prima, che questa metastasi è stata tolta. Vediamo se dobbiamo fare qualche operazione di pulizia intorno.